A Clusone per ora la maggioranza del sindaco Paolo Lini tiene. Questa mattina i consiglieri di Lega e PDL hanno sempre votato compatti, a volte anche con l'appoggio degli indipendenti Carlo Caffi e Massimo Mostabilini. C'era attesa soprattutto per capire come si sarebbero comportati Mauro Giudici e Gabriele Pastorio, i due consiglieri che nei giorni scorsi hanno formalmente chiesto al sindaco una commissione speciale in materia di edilizia privata e pubblica per poter continuare a garantire la loro fiducia alla maggioranza. Il primo era assente e giustificato, il secondo, presente in aula, ha sempre votato con il gruppo. Il sindaco valuta così la richiesta che hanno avanzato. Tutte le comunicazioni che vengono mandate a me e di conseguenza alla Giunta vanno vagliate, vanno valutate. Se c'è voglia e desiderio di lavorare, di collaborare, ben si venga. Ricordo che c'è già una commissione del territorio, quindi dovremo anche valutare come creare questa nuova commissione. I due consiglieri in questione, Giudici Mauro che è presidente della commissione del territorio e l'avvocato Gabriele Pastorio, membro della stessa commissione. Vogliamo allargarla anche una questione dei lavori pubblici? Benissimo, ma cerchiamo poi di proseguire con i lavori perché ce n'è da fare, ne sono stati fatti tanti di progetti, sono stati messi all'attenzione, a volte per una questione di tempo o di impegni personali magari si perde qualche passaggio. Bene, se questo è un richiamo e una volontà loro anche per essere maggiormente presenti su questi temi, ben venga, cercheremo che, non dando delle deleghe, perché ribadisco che la mia volontà di assegnare un assessorato è stata attualmente rifiutata, però se collaboriamo maggiormente anch'io ho più spazio per dedicarmi a altre situazioni. Resta da segnalare che Caffi ha quasi sempre aggiunto il suo voto a quelli della maggioranza, Mostabilini invece si è espresso contro le proposte della Giunta quando si è trattato di approvare l'assestamento di bilancio e la modifica del reticolo idrico minore. Su quest'ultimo punto Caffi si è astenuto, mentre la minoranza di Clusone 24-023 ha votato a favore, contraria invece l'altra minoranza.